Il ginecologo mi ha consigliato ginnastica e movimento. Nessun cenno, le droghe leggere. Secondo te, un diretto non lo posso fare. Secondo la segretaria di uno studio medico, no. Però... Però? La segretaria è la segretaria, no. E quindi? Poi questa è tutta roba naturale, è biologica, non c'è tabacco, nicotina, roba c'è l'acqua. Naturale. Però... Benvenuti. L'instancabile Woody Allen ha già pronto un nuovo film. Non ci sono ancora dettagli sul titolo e sulla storia del film. L'unica cosa certa è che nel cast ci saranno Kristen Stewart, Bruce Willis e Jesse Eisenberg. Per Eisenberg questa è la seconda collaborazione con Allen dopo To Run With Love. Per la Stewart e Willis invece è il primo film con il grande regista. Quest'estate negli USA uscirà il prossimo film di Woody Allen, Irrational Man, con Joaquin Phoenix ed Emma Stone. Aspettiamo ancora la data d'uscita italiana e io vi terrò aggiornati. E intanto scaricate la nostra app. A presto! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!